Yeah, un intero zoo su questo palco questa sera Vi facciamo ascoltare Some of These Days tratto dal nostro ultimo CD Old Stories for Modern Times e questo titolo lo dobbiamo si tributare a una persona che è qui questa sera che si chiama Maurizio ho avuto troppo erbaluce, è colpa del signore là Zambelli Lo Zambo è lui che mi ha ispirato un po' questo nome quindi grazie per averci ispirato Old Stories for Modern Times Un applauso per Max Di Bernardi alla chitarra soffronica Grazie Some of These Days Grazie a tutti 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 Grazie a tutti